Credo che quando vedi un problema come quello dell'immigrazione devi avere l'intelligenza di ragionare da qui ai prossimi dieci anni e intervenire in Africa, investire con la cooperazione ai li aiuti e allo sviluppo. Come dice anche Lod che metterà un sacco di soldi? Un miliardo e set ti mette, per cui l'operazione non la puoi fare semplicemente.